Ed eccoci tornati per un nuovo video! Tempo di qualità! Di qualità, di qualità, ovvero perché non riesco a fare quello che vorrei fare. Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa mi sono sottoposto a chirurgia bariatrica. Ho battuto obesità, stetosi epatica, diabete, ipertensione, apnee notturne e moltissimo altro. Da allora faccio questi video per aiutare quelli che come me a suo tempo non avevano idea di come affrontare questi problemi. Se questo progetto ti piace, ti interessa, ti aiuta, iscriviti al canale, lasciami i tuoi like, scrivimi i tuoi commenti e aiutami a crescere. Nell'ultimo video vi ho lasciato con le ultime parole famose, vi farò sapere settimana prossima. E poi sono sparito. Perché? Perché ci vuole tempo di qualità per fare le cose. Purtroppo, non per scelte mie dirette, ma mi trovo ad avere molto meno tempo e di essere, come diciamo qua in casa, sparato fuori da un cannone. E questo ha degli impatti negativi un po' su tutta la mia sfera di vita. Non avere il tempo di qualità per riflettere sulle cose, per ragionare, per prendersi cura di se stessi, tutto quello che gli gira intorno, mi porta a vivere una vita frenetica che non mi dà granché in cambio. Sto affrontando dei grossi cambiamenti che non sono voluti da me, ma capitano, sono legati soprattutto a questioni lavorative. E questo mi assorbe tantissime energie e una quantità di tempo esageratamente grande. E da qualche parte il tempo devi tirare via. Che è vero che ci sono tanti video motivazionali che ti spiegano che se la tua vita è un contenitore, gli metti dentro prima le cose più importanti, che sono la famiglia, gli amici, e poi vai man mano a riempire con cose più piccole e riesci a farci stare dentro davvero di tutto. Ma se già hai una vita bella piena di cose, e su questo ci vai a costruire dell'altro, perché io sono una persona a cui non piace stare fermo, non mi piace fare cose, Beh, se a un certo punto stai già vivendo con questo barattolone pieno di cose interessanti, ci fai stare dentro quasi tutto, ma arriva qualcos'altro di cui magari ti interessa il giusto, ma che sgomita via dello spazio, e a quel punto qualcosa scricchiola. Magari provvisoriamente devi tirare fuori qualcosina per fare spazio o qualcos'altro che in quel momento o è importante, o si prende il diritto di essere importante, magari per un tempo breve, ma c'è, e qualcosa non ci sta più. In questo caso purtroppo, come tante volte ho fatto nella mia vita, quello che non c'è stato più è la cura di me stesso. Non nel senso che mi trascuro e sono lì imbruttito in un angolino. No, quello no, però ovviamente, parola importante ovviamente, no, non è ovviamente, però a me è sembrato ovvio, evidentemente, buttare fuori alcune cose che mi sembravano rinunciabili, il tempo per le passeggiate, il tempo per riflettere sulle cose, e quindi poi dalle mie riflessioni fare nascere i contenuti di questi video, per far spazio ad altro. Purtroppo non mi sento in un momento in cui posso fare diversamente, perché mi sembra di avere un lenzuolo un po' corto. Certo, posso provare a cambiare il contorno, perché questa situazione non mi piace, non mi va bene, non la voglio, e quindi la voglio cambiare. Il cambiamento non è immediato. Il cambiamento purtroppo significa affrontare le cose, iniziare a smuovere i mattoncini che ti serve smuovere per smontare un pezzo e rimontarlo dall'altra parte in un modo preferibile. Ci vorrà del tempo, e come spesso dico ai miei figli, più ti infili giù nella tana del bianconiglio, più vai lontano e ti perdi dalla strada, più sarà lunga la strada che dovrai fare a tornare indietro per rimettere a posto le cose. E questa prospettiva, insomma, non è che sia proprio piacevole, ma mi dispiacerebbe ancora di più continuare a andare in questa direzione che smonta le cose belle che ho. Onestamente non vedo l'ora di riprendere in mano il mio tempo di qualità, riprendere a farmi i miei ragionamenti, a fare i contenuti per questi video. Ho tantissime persone che stanno aspettando di fare le interviste e non vedo l'ora di farle. Ho idee per nuove interviste, devo prendere contatti con professionisti per realizzarle. ho già cominciato ma in questo momento mi sono bloccato perché non vedo di riuscire a farlo, non vedo il tempo, non vedo la forza, l'energia, la qualità, mi sento stanco, mi sento sopraffatto da tutto quello che c'è da fare e dal fatto che non riesco a farlo come vorrei e non riesco a fare quello che vorrei. Ma la cosa bella è che posso cambiare, posso cambiare queste situazioni e rimettere a posto, in ordine, gli equilibri. Certo, in questo momento ci sono due filoni grossi che mi stanno assorbendo tempo e energia. uno è legato al lavoro e bisogna farlo è fondamentale perché mi permette poi di vivere e quindi devo incanalare questa cosa sperando di riuscire a riportarlo nell'ambito di normalità e quindi nel prendermi il tempo giusto e prendermi le energie giuste per lasciarmi poi la mia vita che è quella cosa per cui vado a lavorare. E l'altra cosa è che sto cercando di spingere tantissimo sul canale dei viaggi in moto perché se riesco a superare un certo break even cioè una certa massa di contenuti e di iscritti al canale inizia a vivere un pochino più di vita propria e inizia anche quello a essere un piccolo aiuto. Il canale delle moto parla dei viaggi che facciamo in moto io e la Fra è una cosa che faccio per piacere è una cosa divertente, è una cosa simpatica è una cosa che prende tempo ma può diventare anche un qualcosa che mi dà indietro economicamente aiuta in questi tempi e significa poter lasciare indietro qualcos'altro per poter farci stare dentro qualcosa di più perché un aiuto economico aiuta sempre tutti. Quindi se volete darmi una mano andate a dare un'occhiata guardatevi qualche video in questo momento mi servono ore di visualizzazione per cui se avete voglia di guardarvi qualcuno di questi video vedete dei posti splendidi dove siamo andati vi lascio qua il link buttateci un occhio mi fate un regalo enorme chiusa la pausa pubblicitaria quindi in sostanza nell'ultimo anno il grosso demone con cui ho lottato è stato il timore di non farcene economicamente ho messo in atto dei cambiamenti per affrontare questo problema e per cercare di arginarlo e ne sto un po' pagando le conseguenze in termini di tempo in termini di tempo e in termini poi di ricaduta su me stesso perché avendo sacrificato in primis il tempo che dedico al mio benessere quindi alla passeggiata al riflettere all'avere il tempo di gustarmi le cose il tempo di far galleggiare il cervello fra i pensieri le idee e quindi poi avere idee nuove avere contenuti nuovi avere insomma qualcosa che poi fa parte della routine che mi fa stare bene e ho dovuto rinunciarci ovviamente non voglio che sia così per sempre è un passaggio è una fase quello che per me è sempre stato fondamentale nella mia vita è muovermi tipicamente in senso figurato non stare fermo in un posto ma crescere camminare muovermi mi rendo conto che devo portarlo anche nella parte prettamente pratica e chi ne aiuta stare meglio fare un po' di movimento invece in questo periodo sono particolarmente sedentario e in questo senso c'è qualcosa che mi ronza interno da qualche giorno che fondamentalmente è la storia di Arnold Schwarzenegger ho visto dei suoi documentari ho ascoltato dei suoi discorsi motivazionali e mi ha lasciato da pensare perché fondamentalmente il suo messaggio uno dei suoi messaggi è datti un obiettivo datti una prospettiva quindi non guardare le cose attaccate al tuo naso ma guarda le cose un pochino più lontane dove vuoi arrivare e prendi la strada per arrivare là in fondo non ti focalizzare sul percorso che stai facendo sulle piccole difficoltà ma se tu hai un'idea di dove vuoi andare e ci vuoi andare con i sacrifici che ti saranno richiesti ma là ci puoi andare quindi tante volte quando siamo senza speranza è perché ci manca l'obiettivo un obiettivo ovviamente ragionevole e lui ce l'ha fatta e ha raccontato questo suo segreto e credo che sia importante per tantissimi di noi se non addirittura per tutti quindi ci vediamo al prossimo video idealmente vorrei che fosse tra una settimana idealmente vorrei che fossero già tutte le interviste che voglio fare tutti i contatti che voglio riprendere con i professionisti per parlarvi raccontarvi di tante piccole cose che sono cambiate in questi anni nella chirurgia dell'obesità perché tre anni per la medicina i tre anni che sono passati dal mio intervento perché io sono stato operato due anni e mezzo fa ma insomma ho iniziato il percorso tre anni fa bla bla insomma è tantissima la differenza sono cambiati tanti protocolli in tante cliniche in tanti ospedali per cui sarebbe bello andare a vedere come è cambiato che cosa è cambiato sarebbe bello parlare con una psicologa che ci racconta perché è tanto importante perché io continuo a stressarvi col concetto della visita psicologica del percorso psicologico del percorso di crescita personale del perché l'intervento di chirurgia bariatrica è fondamentale secondo me per chi ha un problema di obesità grave ma è il primo passo e dietro c'è tutto un mondo fantastico nuovo che è lì che vi aspetta per stare meglio e per diventare delle persone più belle dentro più colorate più forte più energiche più belle beh insomma vorrei promettervi questa cosa e vorrei soprattutto riuscire a mantenerla non so se ci riesco ma ci provo perché è quello che voglio è il mio obiettivo riprendermi in mano la mia vita e tornare a essere bello bello dentro perché adesso mi sento bruttino pieno di ragnatele mi sento stanco mi sento in un momento proprio giù al prossimo video ragazzi e ragazze se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciatemi i vostri like lasciatemi i vostri commenti ah ho una gran voglia di vederli ho una gran voglia di organizzare un altro incontro dal vivo dovevo farne uno ad agosto e ho bidonato clamorosamente tutti e me ne scuso e me ne dispiaccio soprattutto ma devo rimettere ordine a quel famoso vaso delle cose importanti della vita e questa cosa del percorso bariatrico è una di quelle perché credo che grazie a questi video tante persone abbiano potuto scoprire un percorso una possibilità una soluzione per una malattia grave e mi piace pensare di averci messo qualcosa di mio nell'aiutarvi e quindi non voglio lasciarla questa cosa voglio continuare a farla ma farla bene e per farla bene ho bisogno di qualità tempo di qualità adesso basta vi saluto davvero al prossimo video un abbraccio a tutti e a tutte ciao ciao